attraversata la spessa cinta muraria ci si trova subito immersi in un'atmosfera senza tempo il silenzio è rotto solo dallo stridio dei gabbiani e dal fruscio del maestrale che si insinua nei vicoli nel loro volteggiare radente i gabbiani indicano la strada per il mare e per gli antichi vicoli che dal castello dei doria portano alla cattedrale e al ponte elevatoio scorci affascinanti si aprono all'improvviso per far apparire i riflessi i colori e le trasparenze del mare che cambia sfumatura nel breve volgere di un'ora nelle giornate più limpide lo sguardo spazia dalla corsica alla sinara oppure si posa sulle donne che sull'uscio di casa con un'abilità tramandata nei secoli si dedicano ad intrecciare cestini chiacchierando nel loro musicale dialetto che raccoglie le influenze linguistiche dei dominatori genovesi aragonesi e corsi la mescolanza delle culture ha prodotto alla fine un'armoniosa sintesi che costituisce la vera peculiarità di questo borgo la sua anima non solo nella lingua ma pure nella gastronomia nel folklore e nell'originale artigianato artistico si ritrova il frutto di questi incroci culturali mediterranei interranei